E' stato inaugurato ieri, giovedì 8 agosto, il restyling artistico del campetto polivalente in cemento, situato all'interno dell'oratorio Don Cosimo de Carolis, presso la parrocchia Santa Maria della Salette. L'intervento artistico sulla superficie del playground, che ha trasformato il campo in una vera e propria opera d'arte, è stato realizzato grazie alla sinergia tra diverse realtà giovanili di Fasano, come l'ASD Gruppo Sportivo Fasano, Expresso Creative, Trip Studio, d'intesa con la stessa realtà parrocchiale, con il sostegno del Comune di Fasano e in particolare dell'assessorato alle politiche giovanili. I creativi di Expresso sono intervenuti attraverso la decorazione della pavimentazione in cemento, dei canestri da basket e delle panchine. Per la verniciatura sono state utilizzate pitture e resine acriliche professionali. Il campo, così trasformato e riqualificato, continuerà ad essere a disposizione di tutti i giovani frequentatori dell'oratorio, ma con una nuova, moderna identità. Per inaugurare il campetto si è svolto un folatissimo tornino di basket 3 conto 3. Inauguriamo oggi il campetto che ha subito un restyling creativo da parte dei ragazzi di Expresso, che hanno fatto un lavoro bellissimo sul fondo del campo. Adesso non è solo un campo da basket, ma è anche un'opera d'arte. Noi siamo molto grati a loro per questo lavoro che hanno svolto e lo inauguriamo oggi con un bellissimo torneo. Questo vuol dire che le politiche giovani di questa città, le energie giovani di questa città sono attive e noi non perdiamo occasione per poterle sostenere.